Ci troviamo in via Conigliano, appartamento di circa 83 metri quadri, subito l'ampio ingresso accediamo alla cucina, come vedete aree d'Abeli su due lati, con annesso poggiolo. La vista sulla villa con esposizione a nord. Proseguendo, andiamo nella camera da letto, la prima camera da letto di vita anche a sala. Qua abbiamo la seconda camera da letto. Proseguendo invece troviamo l'ampia dispensa. Questa invece è la camera da letto matrimoniale con cassaforte. E infine il bagno con doccia e attraverso il cridoietto rientriamo nell'ingresso.